Ci siamo? Palma. Ha votato? Provi a votare, Onorevole Palma. Non a sbloccarla, a votare. Provi a votare. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico che il Vice Presidente del Gruppo Parlamentare Misto, rappresentata dalla componente politica MAI e Movimento Associativo Italiani all'Estero, Alleanza per l'Italia, API, con lettere pervenute in data 23 e 24 settembre 2015, ha reso noto che la nuova denominazione della componente è Alleanza Liberal Popolare Autonomie ALA. MAI e Movimento Associativo Italiani all'Estero. Alla componente così denominata hanno chiesto di aderire i deputati Ignazio Abrignani, Luca D'Alessandro, Monica Faenzi, Giuseppe Galati, Giovanni Carlo Francesco Mottola, Massimo Parisi e Francesco Saverio Romano. Il rappresentante della predetta componente ha comunicato di aver accolto tali richieste. Comunico che con lettera pervenuta in data odierna, il deputato Giovanni Monchiero ha reso noto che l'Assemblea del Gruppo Parlamentare Scelta Civica per l'Italia ha proceduto in data 23 settembre 2015 alla sua elezione a Presidente del Gruppo, in sostituzione del deputato Andrea Mazziotti di Celso, dimissionario.